Sono Ilia Viviani, ho 22 anni, sono nato a Isola della Scala e per il terzo anno coro per il team Liquigas Candy. Il 2012 è un anno importante, forse per le conferme, quindi sarà un problema riconfermare la grande annata di quest'anno, però è un anno importante perché ci sono le Olimpiadi, è l'anno olimpico e per me è un obiettivo, quindi sarà un anno importantissimo. Può essere anche che un campionato del mondo sia più importante a livello ciclistico, la maglia ti può dare di più, però un'Olimpiadi secondo me a livello sportivo e non solo ciclistico è un sogno, è un sogno per ogni atleta che sia ciclista o di qualsiasi altro sport. Sicuramente la Milano Sanremo mi piacerebbe cominciare a farla, poi per una corsa che ho fatto ma non ho vinto, bisognerà passare un po' di anni, forse il Giro delle Fiandre. Il 2011 mi ha dato delle responsabilità in più, mi ha dato valore nella squadra, anche se comunque già dal primo anno la squadra mi ha dato spazio, però dopo una stagione così sicuramente fai quello scalino che diventi importante per i compagni, diventi importante per il team, diventi un leader e bisogna sapersi comportare da leader. Perché dopo la Milano Sanremo arrivano solo qualche tappa al giro, al tour o ai grandi giri, ma la Milano Sanremo è la corsa con la C maiuscola.